L'incontro non è stato all'altezza dei bisogni che abbiamo, sia per il metodo, perché essere convocati alle otto e mezza, quando hanno il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio e ci consegnano un testo questa mattina, dopo un'ora che era iniziato il confronto, perché le lo abbiamo chiesto, già dà l'idea di una gran volontà di trovare degli accordi con le organizzazioni sindacali. Secondo, ci sono delle cose che non costano e che loro non fanno e che continuano a non fare. Noi abbiamo chiesto una norma molto precisa, che è quella di ripristinare la parità di trattamento economico e normativo per tutti i lavoratori, per tutte le lavoratrici di tutta la filiera degli appalti. Era una legge che è stata cancellata nel 2003, che c'era da anni, che è stata cancellata, e che non ripristinare questa cosa vuol dire di fatto lasciare la giungla del subappalto. E su questo non abbiamo avuto alcuna risposta. E questo è il modo per estendere...